Soddisfatto per l'approvazione di questo progetto di legge da me presentato come primo firmatario perché finalmente anche l'Abruzzo ha una legge che tutela la fibromialgia e la riconosce come una malattia molto invalidante in attesa che anche il Ministero della Sanità la inserisca all'interno dei livelli essenziali di assistenza, quindi all'interno dei LEA. In questo modo oggi abbiamo messo l'Abruzzo insieme alle regioni più importanti d'Italia che hanno riconosciuto questa malattia e abbiamo creato con questo progetto di legge, creeremo nei prossimi mesi un centro di riferimento regionale un'anagrafe della malattia dove è possibile in qualche modo inserire tutti i dati clinici rispetto ai problemi che questa malattia provoca e anche il coinvolgimento delle associazioni e finalmente un comitato tecnico scientifico fatto da esperti del settore che possa aiutare in questi prossimi anni a operare affinché questa malattia sia debellata e in qualche modo possa essere di aiuto a coloro che ne soffrono purtroppo in maniera irreparabile e quindi oggi è un bel giorno per il Consiglio regionale d'Abruzzo soddisfatto anche perché è una legge che è stata approvata non ha limitato tutto il Consiglio regionale.